Comunque Quindi se volete andare A guardare la live da loro Andate da loro Se volete guardare la live qua Guardate la live qua Quindi Nel dubbio Followate tutti e due i canali Nel dubbio No a me non mi followate No Io non voglio follow No no Io non voglio followare Io non le voglio follow No Poi devo gestire tanta gente Ah la fama Eh la fama Preferisco Eh sì assolutamente Preferisco rimanere povero Oh fra Come si chiama sto gioco io? Scrap Scrap mechanic Fra Dove vai? Sto giochetto è carino fra Non so precisamente quanto costa Però 20 euro Fluttuare nell'aria Sali cosa? 20 euro minchia No niente fra 16 su humble Ma nooo Ma nooo Ma nooo Ma nooo Come può essere un materasso Quello aspetta la mia Eh ma aspetta Sì Capisco Scambiato la bibbia per materasso Scambiato la bibbia per materasso Beh entrambi fanno parte di un grande sogno Ho scritto male condominio Che cazzo ha scritto? Condominio Pensavo fosse un condominio Madre Ma nooo Questo è carta che disegnava Ma queste cose non si possono mettere su Twitch Aspetta di vedere il prossimo video Cioè io non so se ti rendi conto ma questa roba sta su internet Ma che cazzo Ma che cazzo Ah fra Ah fra Ah fra Fra Aspetta Ma che cazzo Aspetta aspetta Questo video lo sai che lo edito io vero? Guarda quei cecchini Ah 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 Ma che cazzo Senza tenso Senza senso Senza senso Perché questo Così 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 HagEO Un uomo così eccezionale Che è divino schiena del paradiso Vaffanculo, noi siamo atei Tutto Ma fra... no Porca troia, mi ha ciaccato un monster truck Si è stato investito almeno 15 volte No, fra le c***o Fagli il CN Tu scrivi, non è il dubbio scrivi Sempre in chat Capisca Non so scrivere Non so scrivere nel mentre che parlo Quindi mi perdo le cose Non rischiare Ti aspetto Con tre lettere Non sto capendo minimamente Vai via 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 Ah Continuavo a non capire Ma che ti dicevi via? Connexion lost Ma porco In realtà Il suo piacere Oscuro è Che Vota per Trump Come presidente degli Stati Uniti Mi ha fatto ridere di più la crocifissione Ci clicchi sopra e conferma selezione Ok E vai La crocefissione vince sempre Andiamo appena messa una subito Che bambino è questo? Eh? Che vuol dire? I cildri e il nonno? Il bambino è il guinzaglio La scenda non spiega mai La mia sorella è dirle di tornare in cantina Mi dissocio La vita degli indiani d'America fu cambiata per sempre Quando l'uomo bianco li presentò a Ce l'ho Ce l'ho signori Questa qua fa già ridere così Una notte di Taco Bell Ammetto la sconfitta Ammetto la sconfitta Questo vai È davvero che fanno Che fossi con me? Come la mia prima uccisione È diventato tutto difficile dopo che muore la gente Scusami eh Ma che senso? Decisamente Decisamente Come cazzo? Che cosa ti c'è? Ah, serio? Ciope ma che cazzo fai? Comunque Vabbè qua Potemmo fare Essenzialmente Il cazzo che ci pare Ma vado su Pornhub Così